Grande successo di pubblico ed entusiasmo per le dieci iniziative presentate dai giovani partecipanti al progetto presso il Centro Polifunzionale a Silla di Sassano, nell'ambito del workshop Le Iniziative del Think Tank Sassano 3.0. Il workshop, che ha visto la presenza del Vice Sindaco del Comune di Sassano, Antonio D'Amato, e dell'Assessore alle Politiche Giovanili, Maria Russo, è stato condotto da Patrizia Laudano, che ha presentato le iniziative generate dalle attività del Think Tank Sassano 3.0. Vincenzo Quagliano, amministratore della QS Partners, ha indicato le opportunità utili per sostenere le iniziative dei giovani, mentre Pietro Campiglia, delegato al Fund Tracing delle Università degli Studi di Salerno, ha rimarcato l'importanza di una rete territoriale in cui l'università possa affiancare le iniziative imprenditoriali giovanili. Infine, del gruppo di progetto Michele Merlino, ha sottolineato l'importanza di tali iniziative per lo sviluppo del territorio. Durante l'incontro, i giovani coinvolti nel progetto hanno potuto esporre al pubblico presente le dieci iniziative che hanno beneficiato dell'attività di affiancamento, e quella nata dall'attività di co-working dei giovani col team composto, oltre che dai relatori del workshop, anche da Nicola Buonadies. L'iniziativa è riuscita nell'obiettivo di sostenere idee progettuali creative che, attraverso l'attività di informazione, orientamento e coaching, stanno divenendo business idee nei settori del turismo, agricoltura, dell'artigianato tradizionale e digitale, del patrimonio culturale e artistico.